Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Il cuore spezzato di Roberta Carassai, la madre di Alessandro Venturelli, ha resistito al passare di tre dolorosi anni dalla scomparsa del figlio a Sassuolo il 5 dicembre 2020. Nonostante il tempo trascorso, la madre continua a sperare e a credere che Alessandro, scomparso all'età di 20 anni, sia ancora vivo, trattenuto da qualche parte contro la sua volontà. La sofferenza di Roberta è palpabile nel suo modo di affrontare la quotidiana attesa, dormendo sul divano anziché nella sua camera da letto, che aveva condiviso con il figlio ventunenne. Alessandro, tormentato da un misterioso dolore che lo portava a piangere incessantemente, ha fatto perdere le sue tracce, dando il via a una ricerca senza fine. La storia di Roberta Carassai e di suo marito Roberto è un esempio di speranza e tenacia, trasformandosi in detective nella disperazione, seguendo ogni pista possibile a Napoli, Milano e anche all'estero. La madre, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha espresso una rabbia palpabile per ciò che non è stato fatto. Ha bussato a ogni porta, compresa quella del commissario per le persone scomparse, il quale le ha comunicato l'impossibilità di agire a causa delle indagini in corso. Tuttavia, Roberta ha sottolineato la mancanza di indagini concrete, lamentando che l'unica azione seria è stata la ricerca di un corpo, che ha portato alla scoperta di una donna scomparsa dieci anni prima.